Regolamentare la movida in città, garantire maggiore sicurezza, assicurare un sano e giusto divertimento a tutti i giovani rosetani e allo stesso tempo avviare controlli serrati per far rispettare le norme. Sono questi gli obiettivi che l'amministrazione comunale di Roseto ha voluto fissare con l'emanazione dell'ordinanza sulla movida, firmata dal sindaco Mario Nugnes. L'atto, oltre a sostituire le parti in contrasto presenti nelle ordinanze precedenti con le entrate in vigore e detta nuove regole per quel che riguarda la diffusione sonora nei locali pubblici, è individuo a due periodi differenti di applicazione. Il primo è tra il 1 ottobre e il 30 aprile, mentre il secondo tra il 1 maggio e il 30 settembre. Ancora una volta si dà continuità a quanto scritto nel programma, a quanto chiesto come patto di fiducia ai cittadini rosetani e quindi regole sulla movida, allargamento dell'orario per questo periodo estivo fino alle 3 di notte, ma con regole chiare e in qualche modo ben spiegate ai cittadini che riguardano l'impatto acustico, che riguardano il posizionamento degli impianti, che riguardano i controlli interni che i locali devono avere e riguardano una collaborazione che l'amministrazione ha da subito avuto con le forze dell'ordine locale. Insomma, ci saranno sicuramente delle grandi attività, dei bei momenti di festa all'interno della città, ma all'interno di regole, che vedranno soprattutto sanzioni pesanti per chi dovesse somministrare alcolici nei confronti dei minori. Ci sarà una grande attenzione in attesa di convocare quel tavolo dei genitori, tanto atteso, che ci porterà ad avere una collaborazione. Noi dobbiamo essere prossimi ai nostri giovani, permettergli di divertirsi, ma con regole ben precise. Grazie.